di cui si può parlare e perché? Noi siamo una società a carattere nazionale, si occupiamo di rifiuti, di impianti e di altre cose. Avere praticamente in questa circostanza una brutta rappresentazione della società non è sorbibile perché non abbia voluto sottoscere il contratto. E si presume che non abbiamo i denari, per noi è un grosso danno di immagini. E voi chiederebbe anche l'imborso, quindi l'esercimento danni, l'imborso per le migliori apportate? Sicuramente sì, già l'abbiamo iniziato a fare questa mattina, poi decideranno i periodi a quanto ammonterà il danno e i lavori che abbiamo portato, tenendo conto che dal mese di gennaio ad oggi abbiamo soltanto apportato delle migliorie.